Ho cominciato a lavorare nell'azienda di mio padre, dopo tre anni fa ho fatto una mia azienda, una domanda PSR 6.1, insediamento giovani agricoltori. Nella mia azienda abbiamo fatto degli investimenti, un investimento un ettero di vigneto, un impianto di piccoli frutti. L'azienda poi è composta da più o meno 60 ettere di terreno, due ettere di olivi, frutteto e nell'azienda abbiamo anche fatto degli investimenti per un motore da frutteto più attrezzature, tutte nella domanda giovane agricoltore. Nella nostra azienda è composta così tutta biologica, che è sempre partito con l'azienda biologica, partito da zero con l'azienda biologica e dopo un anno fa abbiamo fatto una domanda agrituristica, una 6.4 per la mia azienda, per ampliare la mia azienda. Abbiamo fatto un casolare che è a fianco al vigneto, stiamo sistemando quel casolare per fare dei mini appartamentini, con poi una sala degustazione per far degustare tutti i nostri prodotti alla gente che verrà a visitare la nostra azienda. E così, grazie a tutti gli aiuti che abbiamo avuto, sono riuscito a farlo. Una domanda giovane per me è di cominciare un'azienda da zero, come un'azienda, e con un'altra domanda sono riuscito a ampliare la mia azienda ancora di più, con un agriturismo per fare degustazione dei prodotti e veliggiatura per i clienti.